Dubisce il fallo, siamo ancora a due falli di squadra per parte, ancora TJ Williams, quindi ci riprova ancora Holmes, attenzione a non lasciare spazio a questo giocatore, rimbalza come restituito proprio al giocatore nato nello stadio di Washington che prova ad andare a spalle a Canessa ad avvicinarsi, non riesce però a tirare, ottima la difesa complessiva da parte di Bologna, il tiro. La Vanoli da parte del GM Flavio Portaluppi attacca, Doton Homs e con l'aiuto del ferro va a realizzare, lui invece in G League. Doton Homs tira con il 53% dal campo, cifre idillia che Doton Homs, sempre lui, step back laterale, classica sua azione, la falla entra e desce e poi entra per Doton Homs. Chiude il palleggio, si riaffida ancora alla sua alla grande, Trunic subito cercato da Homs, palla che torna nell'angolo, il tiro in esbitamento, il palo, conclusione molto con un piccolissimo tentativo di allungo, alto, doppio blocco alto per Quonu che scende Doton Homs, palleggio, arresto, tiro sulla faccia di Zanotti, Gran Canet Reed, consegnato per Mian a 5 secondi, deve inventare qualcosa, Mian, allora scarico per Homs, palleggio, arresto, tiro canestro per Doton Homs sulla sirea dei 24. Mian, to è trenetna petorca Cremone, qu'è upravo napada Koš Vitusa, trica preko Roke, ulice Teodosicu è zabio Holmes.